Il termine ultimo era fissato allo scorso 30 settembre ed interessa stufe, camini e caldaie che utilizzano legna, pellet e cippato. Si tratta della procedura di accatastamento semplificato degli impianti a biomassa previsto dalla delibera regionale dello scorso 30 marzo, una sorta di mappatura sul territorio regionale. Si tratta praticamente di un'azione ricognitoria, chi ha un caminetto, una stufa deve dichiararla, ma siccome in molti mi hanno detto anche che questa cosa non era stata probabilmente adeguatamente pubblicizzata, comunque molte persone non lo sapevano, vorrei tranquillizzare perché è vero che c'è questa scadenza, ma è anche vero che chi dovesse avere un controllo ha la possibilità di mettersi in regola entro 30 giorni dal punto di vista della dichiarazione senza avere sanzioni. Chi ancora non si fosse registrato sull'apposito portale della regione potrà mettersi in regola gratuitamente accedendo al sito del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Il procedimento è informatizzato, rapido ed intuitivo, non prevede alcuna spesa e non necessita di interventi di tecnici specializzati. Sono esclusi dall'obbligo di accatastamento i camini dismessi e quelli che rappresentano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione.